Isola dei Famosi, Alvin svela tutto su Ilari Blasi e Kanyaman Alvin ed Ilari Blasi sono tornati all'Isola dei Famosi, rispettivamente nelle vesti di inviato e conduttrice. Nell'ultimo periodo erano circolate molte voci, secondo cui Alvin sarebbe stato sostituito, probabilmente con il celebre attore turco Kanyaman, per via degli scontri frequenti con Ilari, che c'erano stati anche in diretta. Nei fatti, poi, Alvin è tornato in qualità di inviato. Nel corso di un'intervista a Telesette, proprio lui ha rivelato alcuni retroscena, smittendo le voci. L'inviato ha confermato di aver sentito le indiscrezioni che volevano Kanyaman al suo posto. Alvin, però, ha spiegato che non c'è mai stata verità in questo, dal momento che fin da subito, lui era stato riconfermato nelle vesti di inviato. Alvin ha anche voluto precisare che ad Ilari, lo lega un rapporto di amicizia che dura da vent'anni, dato che avevano entrambi lo stesso manager, Franchino. Fin da subito hanno avuto l'abitudine, di punzecchiarsi a vicenda, con messaggini in cui si prendevano in giro, e sembravano quasi insultarsi. Questo è lo stesso stile che hanno portato in televisione, ma l'inviato dell'Isola dei Famosi ha precisato, che non c'è nessuna cattiveria, ma soltanto la voglia di divertirsi insieme. L'Isola dei Famosi, la frecciatina di Alvin ad Ilari Blasi. Nel corso dell'intervista a Telesette, non poteva mancare nemmeno una bella frecciatina, rivolta direttamente ad Ilari Blasi. Alvin infatti ha detto che anche quest'anno i naufraghi dovranno affrontare delle sfide e che quest'anno si augura che Ilari le capisca, o che gliele facciano capire. L'inviato ha scherzato sostenendo che la conduttrice ha spesso l'abitudine di distrarsi, perché magari chiede lo sgabello per sedersi, o le pantofole per stare più comoda. In questo modo perde le spiegazioni, e poi non capisce le prove a cui devono sottoporsi i naufraghi. Passando al lato più serio dell'intervista, Alvin ha affrontato anche l'argomento della separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti. In qualità di suo amico, Alvin ha sottolineato che le sta vicino, e se ha bisogno di qualcosa, c'è. Al contempo però sa che la Blasi è una persona forte, e che ognuno ha il diritto di vivere queste situazioni, come meglio crede. Si tratta quindi di un suo momento privato, su cui Alvin ha preferito non dire nulla, dato che sarà proprio Ilari a parlarne quando lo vorrà. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate queste dichiarazioni da parte di Alvin, ed avreste voluto invece un altro inviato? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.